Volevo riportarvi alcune delle mie riflessioni, intanto mi è piaciuto molto e secondo me molti dei suoi discorsi, delle sue appunto riflessioni sono assolutamente attualizzabili. Mi ha fatto venire in mente anche ad esempio il caso del femminicidio in cui non si va più ad affrontare l'aggressore, l'omicida dell'appunto di una donna come un mostro preso a sé stante ma come figlio del sistema in cui vive. Ed è proprio lo stesso sistema che va a individuare l'Arent nel momento in cui denuncia il male come una banalità dovuta alla mancanza di idee, alla mancanza di ribellione al sistema opprimente. Quindi secondo me è uno spettacolo assolutamente consigliabile e che ancora al giorno d'oggi fa riflettere e ci permette di crescere come individui.